Perfetto, grazie. Allora, che cosa vorrei dirvi parlando di investimenti nel settore forestale che abbiano la finalità di migliorare le condizioni climatiche e che possano quindi determinare delle forme di remunerazione per i gestori proprietari? La prima cosa logica è che di norma la funzione di sequestro del carbonio da parte delle foreste è quello che gli economisti chiamano un bene pubblico, cioè senza mercato. Però si è riusciti negli ultimi decenni a creare condizioni di remunerazione, creando mercati artificiosi, senza connotazioni assolutamente negative o cariche a questo termine, artificiosi o artificiali. Io centrerò questa presentazione proprio su questa tematica. Come funzionano questi mercati? Che sviluppo hanno? Che possibilità di riconoscimento hanno degli impegni organizzativi ed economici da parte delle proprietà e gestori forestali? La presentazione è basata su tre punti. Prima vi darò un inquadramento di carattere generale di quali sono le tipologie di investimenti nel settore forestale che possono entrare nel mercato delle quote di carbonio, quali sono le buone pratiche e i sistemi di controllo. Poi vi deliverò brevemente due grandi tipologie di mercato per la compensazione di carbonio, il carbon offset, e se c'è tempo vi dirò qualche parola su tre esperienze più significative in campo internazionale di creazione di mercati volontari e una considerazione finale. Quindi vediamo le tipologie di investimenti, buone pratiche e sistemi di controllo. Quando parliamo di possibilità di investimento e di trovare remunerazione facciamo riferimento fondamentalmente a sei tipi di investimento. Uso la terminologia che ahimè è un po' diversa da quella a cui correttamente siamo abituati nel mondo forestale, la terminologia del chiotè, delle convenzioni sul clima. Afforestation e reforestation, praticamente piantagioni, sono la grande principale e tradizionale forma di investimento in questo campo. Gli interventi di miglioramento forestale, in cui si aumenta lo stock, gli interventi molto di moda negli ultimi anni, molto discusso, i cosiddetti RED, RED Plus in particolare, hanno come obiettivo quello di prevenire l'emissione di gas di serra, cioè cercare di prevenire processi di forestazione e di degrado forestale. Gli interventi di agroservicoltura e gli interventi che sono stati adesso progressivamente sempre più considerati rilevanti e importanti e rientrano addirittura nel budget ufficiali dei paesi in merito alle emissioni, legati alla fissazione di carbonio off-site, cioè nei prodotti legnosi. Ovviamente i prodotti legnosi non quelli per esempio cartari, ma quelli a lungo ciclo di vita, quelli classicamente nel settore edilizio dei mobili di qualità. E infine la sostituzione di combustibili combustibili di origine fossile con biomassa a fini energetici. Bene, relativamente ai principi che devono stare alla base della possibilità di offrire questi investimenti sul mercato, un primo principio assolutamente fondamentale è quello dell'addizionalità, cioè se vieni pagato, se vuoi essere pagato per qualcosa che fai, questo qualcosa che fai deve essere qualcosa in più rispetto al business as usual, cioè in pratica di fatto l'abbandono delle foreste, che può essere in alcuni casi accompagnato da una crescita del stock di carbonio, non è addizionale e come tale non può essere messo sul mercato. A dire il vero poi per addizionalità si hanno diverse interpretazioni particolari a seconda degli standard, a seconda delle organizzazioni, ma non scendono nel particolare. L'altro aspetto importantissimo è quello della permanenza. Dato che una foresta quando viene tagliata o distrutta da un incendio, un attacco parassitario, riemette in atmosfera tutto il carbonio che era stato fissato in tempi più o meno veloci, per remunerare un investimento forestale si richiede che questo permanga. Un minimo di 30 anni, molte volte gli standard richiedono anche di più di 30 anni, fino a 150 anni minimo. Significa che per esempio una piantagione di pioppo in pianura padana, turno 10 anni, generalmente non può essere messa sul mercato delle cose carbonio. L'altro aspetto è la gestione forestale in relazione ai rischi, ai rischi che questa accorre e alle modalità di misura del carbonio fissato. Tenete in considerazione che la fissazione del carbonio segue una curva, ma qua ci sono maestri che insegnano, che è quella della crescita della provvigione, della biomassa, è molto parallela. Evidentemente quindi se io realizzo una piantagione metto in atto un meccanismo biologico che mi porterà a creare nel futuro della capacità di sequestro, ma al momento iniziale ho molto poco carbonio sequestrato. E questo è la idea dei problemi quando io devo vendere i crediti di carbonio. Evidentemente se mi trovo per esempio 2021 come nel grafico potrò vendere tutto il carbonio pregresso dal momento in cui ho volutamente iniziato questo investimento. Ma rispetto al carbonio futuro che metto, questo evidentemente va messo in chiaro, perché del futuro non c'è certezza evidentemente. Ed è per questa ragione che molti standard richiedono per coprire un'area di rischio, un buffer. Cioè se io fisso 100 metri cubi, un 20-30% di queste tonnellate di CO2, un 20-30% di queste tonnellate non vanno conteggiate perché vanno messe in una riserva di sicurezza per prevenire eventuali fluttuazioni nelle stime e fluttuazioni dovute a danni di carattere ambientale. Un altro aspetto molto importante è il leakage. Questo aspetto non ha particolare significato generalmente in Europa, però nei paesi del terzo mondo è importantissimo. Cioè se io realizzo un intervento in un'area, la metto per esempio in protezione con un progetto Rada Plus, devo assolutamente tenere in considerazione quali sono gli effetti collaterali che creo nelle aree forestali vicine. Perché per esempio spostare un pascolo eccessivo da un'area all'altra evidentemente sarebbe una falsa iniziativa volta a promuovere la fissazione di carbonio. Ecco, infine un altro aspetto importante è il doppio conteggio. Parliamo di servizi immateriali che materialmente si identificano in un certificato, in un file che evidentemente non viene materialmente visto e scambiato. Per questa ragione ci sono molti abusi in questo mercato, ci sono stati molti abusi. Per esempio quello del doppio conteggio, della doppia vendita. Questo problema era stato risolto con la creazione di database, di registri per chiaramente identificare quale aree sono state sottoposte a una procedura di controllo della produzione di crediti e quali crediti sono stati assegnati e quali non. Il più grande registro a livello internazionale di crediti, tanto per farvi dare, avere un'idea, è questo Market, dove potete trovare per esempio molte informazioni rispetto a aree forestali che sono oggetto di iniziative di credito di carbonio e di vendita di credito di carbonio. Tutto pronto con l'obiettivo di evitare il doppio conteggio. Parlando dei due mercati, dei due mercati del carbon offset, iniziamo con il mercato volontario, over the counter, talvolta definito così. Questo in effetti è basato su due grandi tipologie di mercati. Gli schemi internazionali di iniziativa di organizzazioni private, profit e non profit, e gli schemi, normalmente schemi nazionali, talvolta regionali, iniziativa quindi di istituzioni regionali, gestiti dall'autorità pubbliche. Ovviamente in questi casi quando c'è un ente pubblico che gestisce e organizza il mercato su scala locale non esiste il problema del doppio conteggio perché è l'ente stesso che dà una certa garanzia. Questi mercati volontari operano in maniera simile al mercato istituzionale, in forma parallela, però sono molto più dinamici, anche molto più innovativi. Molte idee, tipo per esempio le iniziative sul RED, vengono prima testate, provate, avviate nei mercati volontari e eventualmente in momenti successivi si istituzionalizzano. E questi sono i mercati dove agiscono molti operatori, anche privati, anche imprese, grandi imprese che nelle loro strategie di green marketing, di responsabilità sociale e ambientale, volontariamente si prefiggono di ridurre o addirittura azzerare le proprie emissioni facendo investimenti. Ecco, come nel mercato istituzionale abbiamo dei crediti che hanno dei termini tecnici che sono quelli di ERU o CER, così nel mercato volontario abbiamo i crediti che vengono chiamati VER, Verified Emission Reduction. Questi nomi si fanno riferimento anche ai diversi standard che stanno alla base per il controllo di questi crediti. Gli standard più utilizzati nel settore forestale si stanno riducendo grazie al cielo, perché la situazione era molto diversificata nel passato e sostanzialmente adesso i due standard di riferimento sono il VERRA, ex VCS, e il GOLD standard. Ogni standard ha le sue regole legate a dizionalità, permanenza, leakage, buffer e così a tutti quegli aspetti che prima vi ricordavo. Gli standard che vi ho fatto vedere e anche altri poi hanno dei campi di specializzazione particolare, per esempio ci sono standard, non li ho ricordati perché non sono specifici, per il settore forestale legate alla definizione dei crediti carbonio che riguardano soltanto in genere la buona gestione forestale. Lo standard in questo campo assolutamente prevalente degli investimenti internazionali è l'FSC. Ci sono altri standard che per esempio guardano alla buona gestione, ma soprattutto in relazione agli aspetti sociali, come le popolazioni indigene e gli interessi delle popolazioni locali sono presi in considerazione, il CCB e il social carbon. Altri standard guardano più l'organizzazione, proprio il mercato e gli aspetti ambientali, ma altri sono standard misti, ma quelli più noti e più utilizzati sono appunto come vi dicevo il WCS e il gold standard. Come si organizza il mercato? Il mercato è molto articolato, molto complesso e con molti costi amministrativi, quelli che gli misti chiamano costi di transazione. Abbiamo da una parte la domanda e dall'altra l'offerta e abbiamo molti operatori che danno assistenza alla proprietà e gestione forestale o alle imprese o talvolta addirittura anche ai singoli che vogliono avviare a zero carbon emission o ridurre le proprie emissioni e quindi per esempio hanno bisogno di fare dei conteggi analitici di quanto carbonio, CO2, viene emesso in un'attività, in una linea produttiva in un anno. Abbiamo una serie di intermediari che più o meno si coinvolgono in questo business, alcuni acquistano e rivendono, altri fanno una funzione di intermediari puri. E poi abbiamo tutti i sistemi di certificazione e di controllo e negli schemi seri di certificazione di parte terza abbiamo gli enti di accreditamento che contano i certificatori. Questo per dirvi come la struttura del mercato è articolata, organizzata e anche costosa. Alla fine un problema grande, non da poco, è che quel credito che paghi tu acquirente 20-30 euro a tonnellata, poi determina se va bene un 3-4-5 euro di guadagno al gestore forestale, perché ci sono tutti i costi di intermediazione. Eppure il mercato va, prosegue ed è molto dinamico. Questa è una recente immagine che ho ripreso proprio da un articolo di Gabanella e Tortora, che vi dà un'indicazione di tutti gli impegni già portati avanti da diverse internazionali, proprio specificatamente nel campo forestale, in termini di piantagioni. Sono in alcuni casi impegni abbastanza significativi. Un accenno agli schemi di certificazione nazionale per i progetti di riduzione e sequestro di carbonio che ci sono in Europa. C'è un registro, c'è un studio che viene annualmente aggiornato, che fa un po' un inventario di questi sistemi promossi da autorità pubbliche nazionali o regionali. Ecco, senza scendere nel dettaglio, come vedete questi schemi riguardano in misura significativa anche attività forestali. In particolare sei dei dieci schemi che funzionano attualmente in Europa interessano i investimenti forestali e in prevalenza, quando parliamo di investimenti forestali, parliamo della tipologia più semplice che è quella di piantagioni. Le piantagioni sono l'investimento più frequente per produrre crediti da mettere sul mercato. Ci sono diverse definizioni di addizionalità. In ogni caso in nessun schema viene creato un mercato per attività che siano pari al business as usual, cioè in nessun schema si finanzia, si paga, si mette sul mercato attività che non sono addizionali. Ecco, siamo ben lontani dall'avere un mercato unico, come vi dimostra anche nella tabella del diversificazione dei prezzi medi delle quote, che vanno da valori molto bassi, addirittura inferiori all'euro, a valori altissimi intorno ai 110 euro. Pensate che nel mercato istituzionale LTS dell'Unione Europea siamo a livelli adesso intorno ai 60 euro a tonnellata. Due parole sul mercato istituzionale, detto anche compliance, mandatory o regulated. È il mercato che deriva dall'approvazione della Convenzione Quadro e dei suoi strumenti attuativi, il protocollo di Kyoto e adesso l'accordo di Parigi. Il mercato funziona soprattutto, almeno nell'Unione Europea, grazie a quello che viene chiamato l'European Trading Scheme, uno schema per lo scambio di quote di carbonio che dal suo nascere ha escluso le foreste. In effetti proprio la settimana scorsa a Glasgow sono stati dei passi in avanti per andare verso, ma i tempi non saranno brevi, verso un coordinamento e integrazione tra i mercati istituzionali e nazionali, perché come noi abbiamo l'ETS nell'Unione Europea, così ci sono mercati nazionali che fra l'altro comprendono il settore forestale in Nuova Zelanda, in Australia e in California. Quindi il panorama nel futuro sarà diverso e probabilmente andremo verso una maggiore integrazione dei mercati volontari e mercati istituzionali. Comunque nel mercato istituzionale europeo si è deciso al suo nascere che le foreste dovevano essere escluse. Perché? Perché si era attenti molto al trasferimento tecnologico, di tecnologie avanzate, di risparmio energetico, perché gli investimenti forestali hanno effetti temporanei e reversibili e sono soggetti a fattori di incertezza non da poco. Bene, quel che è nuovo in questo campo ed è molto interessante è che molto recentemente l'Unione Europea ha stabilito di cambiare questa decisione. E dalla bocca del responsabile del direttore generale della direzione clima e poi in documenti di policy molto importanti come la strategia farm to fork e recentemente la strategia forestale dell'Unione Europea si è detto dalla fine del prossimo anno avvieremo investimenti, avvieremo attività generatrici di carbonio sia nel settore agricolo che nel settore forestale. Queste quote che si genereranno potranno essere vendute nel mercato ETS, quindi un'impresa industriale potrà acquistare queste quote. Questa è una decisione di grandissima rilevanza politica ed economica e prepariamoci a questo momento perché sarà un momento in cui il principio, chi produce esternalità positive può essere compensato, verrà applicato. Bene, non ho tempo per affrontare la descrizione delle tre esperienze, ma avete già online sul mio sito la descrizione di queste tre esperienze, quindi vado alla semplice considerazione finale. La semplice considerazione finale è basata sulla costatazione sul fatto di ricordarvi che c'è un numero crescente di imprese sempre più interessate a investire su base volontaria nel settore forestale per raggiungere obiettivi di riduzione delle emissioni. Ecco, sono 5.900 le imprese a certa dimensione che attualmente hanno impegni ufficiali in questo campo e 2.000 imprese hanno adottato, stanno adottando un sistema interno di pricing delle emissioni. Quindi nel futuro la domanda di crediti di carbonio è, in particolare per il settore forestale, sicuramente destinata a crescere. Questa è l'evoluzione recente registrata ufficialmente di queste imprese, ma come vi ricordavo sono le imprese più alta visibilità, maggior notorietà, probabilmente non vengono qua registrate le piccole e medie imprese che hanno molte volte anche impegni significativi. Le autorità statali dovrebbero supportare questo impegno, dovrebbero dare regole certe di orientamento anche per evitare misure e interventi speculativi che sono molti, dei classici furbi che vi assicuro non sono soltanto presenti nel nostro paese, i cosiddetti forest carbon cowboys. E notate bene, questo non è un auspicio che faccio su base personale, ma è un impegno formale assunto da tutti i governi, anche da quello italiano, un obbligo istituzionale. Qua vi faccio una citazione proprio in merito al coinvolgimento dei non-party stakeholders molto importanti. Ebbene, ahimè, devo dire che l'autorità ministeriale di competenza in questo campo, che è stata il ministero dell'agente, ahimè non è stata molto attiva. Ci sono state delle iniziative promosse dagli enti che qua vedete ricordati, in un coordinamento comune per supportare l'evoluzione di un mercato verso condizioni più chiare, più trasparenti. È stato approvato un codice del carbonio in Italia, primi ancora della Francia e della Germania. Abbiamo un'attività del nucleo di moneraggio del carbonio in essere. Sfortunatamente non abbiamo mai avuto un endorsement ufficiale da parte del ministero dell'ambiente, un supporto per far emergere queste le regole di buon comportamento nel mercato volontario. Ebbene, vi ricordo ancora, non è un'ozione, è un obbligo istituzionale, ma è anche un investimento intente, perché è un investimento caratterizzato da tre dividendi, dividendi positivi sul clima, sulla biodiversità e sui redditi dei gestori forestali. Grazie.